Ciao a tutti, come avete detto dal titolo, oggi è giveaway. Sono stra felicissima perché siamo arrivati a più di 700 iscritti, quindi grazie di cuore, veramente non me l'aspettavo. Per partecipare a questo giveaway bisogna essere iscritti al mio canale, bisogna mettere uno dei miei video che a voi è piaciuto tra i vostri preferiti e condividerlo anche nei social network e terza regola è commentate, ma mi piacerebbe che il commento fosse su cosa vi piacerebbe che io facessi nei prossimi video, quindi cosa vi piacerebbe vedere nei miei prossimi video. Questo è tutto. Passiamo a quello che ho pensato per voi. Ho tutto qui tra le mani. Apriamo questa cosa segreta. Allora, prima cosa è questo, vediamo se riesco a farvelo vedere, che è sul verde, verde e nero, che è praticamente quei fularoni grossi che mettete anche come sciarpa, che io ne ho tantissimi e ho pensato di regalarvene uno per voi. Poi, questa palette, come vedete, eccola qui, è piccola, è grande quanto la mia mano e i colori sono 12 e sono tra il verde chiaro, verde scuro, blu e grigio. 3 rossetti, eccoli qua, rosa chiaro, rosa un pochettino più scuro e color pesca. 5 blush, vi faccio vedere i primi due, che sono questi, che sono color pesca, uno più chiaro e uno più scuro. Poi, questi due, che sono sul rosa, adesso qua non so se si riesce a vedere, che sono sul colore rosa, rosa chiaro e rosa scuro, e poi l'ultimo, invece, che è questo colore qua, che sembra più un illuminante, quindi è molto chiaro e sembra più luccicoso degli altri. Poi abbiamo 5 ombretti in polvere, vi faccio vedere il primo, che è questo qui, che è un color giallo, canarino, sì, poi questo rosa chiaro, questo azzurrino, stupendo questo colore, questo verde, che anche questo adoro tantissimo, e poi questo color pesca. La cosa carina di questi ombretti, che si possono levare il tappo e metterli insieme, quindi unirli, io ho trovato una cosa carinissima, che mi è piaciuta tanto. Poi, 3 gloss, che è un rosa scuro, un rosa chiaro e questo colore qui, che sinceramente non so descrivervelo, quindi poi quando le vedete, guardate voi. Poi, questi orecchini, che sono i miei preferiti, che hanno questa farfalla al centro, che sono stupendi, tre matite, che sono due nere e una marrone, un eyeliner di Pupa, una palette di 5 ombretti in gel glitter, tre smalti, tra cui il fucsian, il rosa chiaro e questo colore qui, che è lo stesso, uguale ed identico al gloss, che non so descrivervelo sinceramente, sembra un colore malva, non lo so, poi vedete voi, ecco. Poi, il balsamo labbra di Kiko, il mascara di Essence, e poi vabbè, inclusi ci sono anche questi, che sono dei pennellini, e che dirvi, in bocca al lupo a tutte, un bacio grande a tutte, e vi ringrazio ancora di cuore. Ciao!